salve a tutti i ragazzi bentornati su gamebusters siamo in una delle missioni principali di horizon zero dawn esattamente è la missione principale bandire l'oscurità sarebbe una delle missioni probabilmente noi pensiamo una delle ultime missioni anche secondo me anche se siamo nel nel 2018 e il gioco è già uscito da un po noi non sappiamo proprio niente quindi dobbiamo infiltrarci nella base segreta dell'eclissi e distruggere la rete dei focus ok quindi ci siamo già avvicinati un po e siamo in questa parte della mappa noi dobbiamo raggiungere quel punto giallo giusto in basso ok raggiungi la posizione indicata da silence ok che sarebbe quella voce misteriosa che poi si è palesata qualche video fa sì sì quell'amico di colore ok siamo in una fittissima foresta osso di tacchino e questo serve per fare qualche sacca di munizioni a noi sei molto vicina mi chiedevo quando avresti parlato c'è una parete di roccia più avanti guarda bene troverai degli appigli per arrampicarti davvero e chi ce li ha messi questo mercante noi non abbiamo niente da rendere è tutto più entusiasmante con un po di mistero distrugge la rete di focus dell'eclissi ha detto allora come faremo no dimenticavo noi non faremo nulla io faccio il lavoro pericoloso tu ascolti e basta non si è una zeppata proprio dopo il lamento vediamo che possiamo vedere risorse carne grassa c'è più che altro per liberare slot non pensare soldini carne nutriente che non ci mancano ma infatti sì sì per liberare slot recipiente metallico anche questo cominciamo a vendere ma perché tra l'altro eravamo anche arrivati a 100 quindi è tattico proprio questo mercante è un bel cialetto se nel caso questo il caso di venderlo proprio sì allora non so questo ossa che teniamo parecchie comunque sì però servono sempre per fare delle sacche delle cose non non te ne vuoi privare scambia con il mercano proprio ci abbiamo solo cinque slot vabbè vogliamo rischiare con 55 slot no vabbè dai pare le volte non sono proprio comuni comuni perciò a questo possiamo vendere la fulgore ok e facciamo sei da armi non ce ne frega abita non ce ne frega bobine ci abbiamo cinque così vediamo questo lo vendiamo l'acerazione non si 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 fuoco pure non vendiamo enti quelli verdi tranne questo che da qualche cosa e poi fatti qua pure dobbiamo fare una bella cerni da che stiamo facendo la collezione per esempio di questi qui 25 25 ne abbiamo cinque noi ne possiamo anche lasciare solo dovevo vendere questo che a differenza di questo non c'è la resistenza ok e si libera vendere vendere questo sicuramente 95 resistenza alla corruzione successivo però se resistenza al fulmine 9 più 5 e inferiore va bene questo qua non lo vendiamo facciamo proprio velocemente bla 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 ok abbiamo liberato qualche slot sì ok c'è una bella corsa non è molto lontana e abbiamo fatto percorsi molto più lunghi a piedi vabbè ma tanto poi aloe alla stamina infinita infatti un po' a questa è la parete ma non stanno gli spuntoni ecco gli appelli proprio dove mi aveva detto mi hai sentito silence? no il tuo è proprio un nome azzeccato mattutaccia non cadere infatti non stanno gli appiglio non li vede neanche lasciati cadere no no lasciati arrampicare quindi forse non era questo il punto è sostanzialmente così gialli lasciati cadere sono scemo io secondo me che non trovo la no anch'io non li vedo sinceramente ok c'è sto cazzariello bianco non era giallo però infatti bene e adesso? adesso aspetti e basta siediti vicino al falò e riposa parleremo quando sarà notte almeno ho il fuoco a tenermi compagnia carino da parte tua a parte potere il nostro obiettivo è distruggere la rete dei focus già dimmi la parte che non so come? dovrai infiltrarti nella base principale dell'eclissi cosa? esatto per tua fortuna ti ho portato fino alla strada alternativa attraverso quella spaccatura raggiunta la base vedrai l'obiettivo un collo lungo fatiscente che è stato ampiamente modificato scala il collo lungo impiantato nel suo disco troverai una specie di modulo distruggilo e la rete dei focus sarà fuori uso quindi facevi parte dell'eclissi? io non ho mai fatto parte di niente servo solo i miei interessi sempre ma è vero che ho aiutato l'eclissi prima che percepissi la minaccia è stato un errore e faccio il possibile per rimediare che genere di aiuto hai dato? raggiungi la spaccatura, Aloy hai cose più importanti a cui pensare che fare domande ma la fai culo ma la vedo bene questa situazione si faremo una bella missione alla Solid Snake ok vediamo cosa c'è qui sono un bel po' di macchine eh sono parecchie che poi sono anche parecchie longipede che non sono facili facilissimi ma poi le macchine corrotte sono pure più forti di quelle norme eh sì penso che la devi attirare a te no? ehm quello questo che cos'è vedete occhio rosso cioè io non so se con un colpo riusciamo penso di sì guardiamo 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 abbiamo anche sbloccato quella abilità l'hanno visto tutti credo scappiamo dove? indietro qui foto come dei codardi vabbè almeno perdono le tracce penso che ti seguono fino a qua dentro no penso proprio di no sono ancora tutta allarmata però sì brave non c'è niente da vedere qui benissimo va bene affanculo devo cambiare un attimo abito in uno che ne pensi? buona idea allora vieni vieni non ti è riuscito il silenzioso? aiaiaiai questi fanno male entra cazzo eh vabbè si è interpolato dai si è interpolato no non è che si è interpolato si è proprio intagliata si è bloccata si è glitchata si è tutto buggata tutto eh ma mi sa che non lo riusciamo a fare perché questi sono belli potenti vediamo se riusciamo a fare qualcosa oh questo gli è rimasto proprio la sputazzella fanno il culo affonditi subito ok provate a tirarlo vedi che succede vieni 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 cara vieni tu voi provare col colpo ah secondo me almeno la metà dei danni che la togliamo no? la metà di energia non era un colpo d'appertino vedi vuoi fare anche il critico forse no? si ah cazzo questo c'è fortissimo questo stronzo ah ah non può manco camminare eh perché è la corruzione capito? non puro ok è molto più dura di quanto immaginassi si ma perciò li devo prendere li devo prima rendere un po' più vulnerabili eh questo o almeno stacca gli parti di corazza si comunque con due colpi critici e un colpo silenzioso ancora non è morto ah è perciò ti ho detto mh vabbè ormai è morta questa qua però mh mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra che puoi fare il silenzioso perché ti sta seguendo eh che cazzo niente 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 comunque mai ti ho rotto il cazzo ho bisogno di qualcosa di naturale per farlo eh anch'io credo qualcosa di una bella tisana qualcosa di naturale eh sì sì una bella tisanina eh sì sì una bella tisanina ah però sono stato fesso perché mi poteva prendere una bella pozione anticorruzione eh sì è vero vabbè ti puoi fare una chinace e tutto passa è vero che sono stato fesso fammi capire sì sì che bello compagno servono molte erbette qua ah ce n'è un altro là quello è un longifere ma bastardi anche perché sono velocissimi ma poi fanno quel colpo eh banzai sì è una sorta di loffa perché saltano what's loffa? è un peto un peto silenzioso ma fragroso vedi se riesci a staccargli faccio proprio questa freccia di precisione qua vediamo se è questa la giusta sì l'è l'è ti sfondo in petto come si dice dalle nostre volte ah componente rimossa batteria vulnerabile a fulmine e lacerazione ok c'è qualcosa col fulmine? sì c'è una trappola no? sì vediamo se arriva ah no è cavolo dovrei cambiare allora ecco sì eccolo qui ah no mi si nasconde sta stronza ma è caduta però non ho gli fatto parecchio danno ah pure io a me stesso mi hanno fatto parecchio danno vai dai che cazzo ma per un secondo bene sto giocando proprio da da nubo nubio da nubio da nubio buono il da nubio tra l'altro sì è buono alle feste ai compleanni è fissio sì sì è una passione mia allora andiamo avanti dai che stiamo prendendo un sacco di tempo non mica saliva così tranquillamente dobbiamo salire qua fare tutto il percorso di prima tranquillo sento i passi del una bella bestia ah quello dovrebbe essere il collo lungo no? che fare questi passi così sì che il nostro obiettivo attuale sì sì allora bene questa cosa che cosa è? va forse era per fare il percorso ah forse era un altro percorso esatto sì e vai puoi scendere? che dici? esplosioni in lontananza non farci caso non ti riguarda ecco c'è questa bello spazio verabili al fuoco amma mia quanto ce ne stanno quindi qua si va di frecce infuocate da nascosto però vediamo se riusciamo a cioè che cazzo lo spazzino comunque prova perfetto si fa lo settimo che si a fare queste uccisioni non sarebbe ma la rosa vieni vieni giovane vieni da young man perfetto tiriamo in un'altra benissimo allora è proprio il longipede che è insidioso si si ha già più energia di suo ma è anche corrotto è anche molto più veloce degli altri vabbè considera comunque anche il nostro livello che è livello A ok c'è altro? dovrei abbandonare qualcosa altro mi pare ci stava qualcosa di là spazzino 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 comunque sono a livello 15 non è che sanno proprio gli ultimi degli stronzi questo che cazzo è una macchina distrutta ma qua c'è un po' di di nascondiglio si che ci fa gioco ti? e l'abbiamo l'abbiamo stoppato con un fischio forse ti stai avvicinando o a cose del genere ok attenzione a quell'altra attiriamola vieni giovane vieni svelto che non ci abbiamo tutta la sera passeggiata a mergerina vieni 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 ok ok fiorellini fiorellini ci servono vieni spazzino dai che sei l'ultimo credo non vedo altro questa è una colpe dai dai spazzino dai mamma mia ho sempre il terrore quando faccio queste uccisioni furtive perché metto paura che all'improvviso fa quelle sue cose eh sì che fa il colpo caricato si invece di fare il colpo silenziato fa il colpo normale quello scema il collo lungo è oltre quel crinale lo vedrai raggiunta la cima sii pronta ad agire in fretta dovrai entrare e uscire prima che diano l'allarme beh speriamo ah stanno proprio qua stai ricevendo laggiù vedo le gambe del collo lungo ma niente collo lungo merda hanno rimosso il trasmettitore vai nel crepaccio a sinistra dovrebbe essere lì alla faccia delle informazioni riservate verso le esplosioni ottimo hai esattamente un solo tentativo aloi quindi risparmiati il sarcasmo e non sprecarlo vedi quel ponte oltre il crepaccio si memorizza la posizione puoi calarti da un punto sul fianco sarà la tua via di fuga e gli uomini dell'eclissi evitali o uccidi liate la scelta le esplosioni copriranno i rumori trova il collo lungo e distruggi il modulo sulla cima ci siamo io cambierei di nuovo abito ci mettiamo proprio quello silenzioso quello silenzioso eh eh si non dovrebbero farci danni da corruzione almeno non credo no 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 questi a che livello sono livello 6 però questi fanno comunque parecchi danni si però voglio vedere se c'è stato tipo il l'allarme dei campi che quelli quello ci romperò le palle cominciamo compagnia compagnia alt vieni vieni iniziamo a farli fuori ho temuto ho temuto ho temuto sicuramente attirerà qualcuno perché vedranno il corpo eccola potrebbe esserci qualcosa no non c'è niente non c'è niente c'è la tua fine c'è solo un tuo amichetto ci sono allarmati però si ma perché ha visto il corpo secondo me o il porco perché poi non si è avvicinato qua perché ha visto il corpo e la usce hai un altro fischietto quanto lo fa fare cos'è stato dai vieni su vai ok due in meno ma già stiamo pieni cazzo adesso concentriamoci più che altro sulle boccette di si quelle di energia infatti sono stato un fesso perché dovevo usarle cerchiamo di non rimanere senza ok i dragatori sono quelli che hanno la vampa dietro le spalle giusto non ho spazio non ho spazio dov'è che dobbiamo andare nello specifico cerca il colore trova il collo lungo a noi non c'è tempo per curiosare ce n'è se lo trovo le nostre magie attenzione attenzione c'è una frasca no dove posso nascondere no forse potresti provare a lanciare qualche sassolino ok bene questo è importante perché sta proprio sul sul ponte si ci rompe proprio il cazzo perfetto fino adesso siamo le ninja le partite da metal gear solid hanno dato i frutti sperati ok c'è possibilità di avere di avere una visuale dall'alto no non ci sono autore no niente niente ok ci dobbiamo proprio infiltrare scusate ma non c'è vero sulla destra ce n'era uno sì sì perfetto rimani lì qua non c'è qualche bella frasca no vedi il giro che fa uno di noi è morto quaggiù no se stessi provare adesso aspetta sta arrivando anche quello equipaggiato se il super tento ecco che se ne vanno ma insomma ora secondo me buco io alle spalle perfetto torna subito indietro qua ci vuole una tripla prevenzi dai c'hai dieci dieci crecce c'hai perfetto grande grande eh sì stanno combattendo laggiù di cui tre in testa un'operazione mineraria finché farei presto non ti riguarderà un altro segreto che posto è questo una distrazione ci sono diversi punti dati ok poi ce li sentiremo con calma sì sì offline offline dove 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 segui il puntino giallo profezia o profezia dovrei viaggiare leggera profezia pure allora vediamo spingi spingi e dai e ma ma spingi da dieci metri da vicino da un metro no è un fanatico chiaro un fissato gli da una determinazione che tu non hai perché non cerchi quel non sarebbe stato più semplice trascinare il collo lungo di qua perché tanta fatica pensa a trovarlo e raggiungi la cima distruggi il modulo e poi vattene più in fretta che puoi ci sono parecchie esplosioni quassù si danno da fare abbastanza da non notarti speriamo vediamo dove ci possiamo arrampicare lo vedo gli hanno costruito attorno una specie di struttura arrampicati allarme fonte di trasmissioni irregolare vicina oh cazzo forse ci hanno individuati vabbè ma non può essere così facile capito ci darà sicuramente qualcosa saliamo di qua il segnale è da queste parti a che servono queste scalette a questo punto a farti perdere tempo forse c'è il sentiero queste rampe qua eh ma io l'avevo vista solo ho detto vabbè ce ne andiamo per le scale così che è un po' più stealth eh invece no e va bene eccoci eccoci vedo il modulo bene ora veloce questo questo è Abe Aloy non è il momento è un demone di metallo apri la custodia del modulo ora Aloy fa come ti dico sarà la fine noo vedi ecco un super mega corruttore multiplo l'entità è venuta qui siamo noi l'entità l'entità ha sbagliato l'entità non può distruggermi non può raggiungermi forse io no ma questa sei me cojoni l'estruggere l'entità ah questo è il copesh ah copesh penso che dovresti essere pronto a saltare da un momento all'altro lo dici è proprio quasi a bruciapelo no fa tutto l'era fa tutto l'era no ha distrutto il collo di uno guarda questo attento al copesh eh eh avanti corri 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 dove eh qua sarà come la eh bravo ah sì 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 super cosa credi stia facendo un pisolino mental copesh stava lanciando di tutto sembra facile oddio dio che ansia ecco stiamo scherzando stiamo scherzando ancora uno sforzo no cosa scappa non lottare ciao stiamo scherzando a sinistra all'accampamento va bene ci sono quasi perfetto ho notato non lo so si ho notato scappa o morirai l'eclissi sul crepaggio non sto capendo niente di là di là di là di là quella è l'uscita lo so no no cazzo eh vabbè c'era un lasciati cadere forse eh sì però c'è manco il tempo di premere il tasso sta cretina scema vabbè vabbè penso che ti fa sarebbe stato perfetto eh sì 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 alla prima botta fermarti non lo stai non lo stai non lo stai non lo stai vai di per curgo non lo stai non lo stai no no a sinistra all'accampamento va bene ancora uno sforzo lift e la base in allerta si ho notato scappa o morirai uomini dell'eclissi ponte in vista quella è l'uscita lo so calati perfetto cioè non mi ha dato manco il tempo di calarmi no vabbè ok nell'acqua molto spettacolare sì spottacolare anzi oggi no spettacolare spettacolare sei ferita no forse no l'arco dov'è il focus ce l'ha b sì almeno quello c'ho la faretra però eh ma la faretra senza arco è stata dura ma sei viva sapevi che ade era lì e mi hai mandato lo stesso ho messo a rischio la tua vita sì ma era l'unico modo con la rete dei focus disattivata raggiungeremo l'obiettivo l'accesso ai segreti di zero dawn ho smesso di confidarti i miei segreti bene significa che stai maturando la fiducia è per gli stolti muta e si sgretola come la sabbia una base debole per qualsiasi alleanza ma avere uno scopo comune getta fondamenta solide su cui costruire insieme una nuova scienza della comprensione ci servono risposte a noi grazie a te siamo sul punto di ottenerle va a tramonto parleremo lì ma brutto maledetto ma brutto brutto sì infatti non è proprio bello bello se potessi liberarmi del focus di te e silence lo farei ma sappiamo entrambi che mi serve e tramonto sia e zero dawn missione completata ok quindi ci ha attivato una nuova missione principale segreti più profondi della terra raggiungi tramonto va bene io direi che con questo appuntamento possiamo anche salutarci no che ne pensi sì 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 ok ragazzi allora se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace condividete il video fate conoscere il canale a più persone possibili noi ci vediamo con il prossimo appuntamento qui su horizon zero dawn ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti